ok ho il biglietto aereo ora posso fare le valigie prima i costumi questo non mi piace prenderò quello arancione e questo qui gli shorts una t-shirt e una gonna fatto vado in spiaggia wow è così bello qui alla spiaggia subito oh fa così caldo andrò a cambiarmi ci sono così tante cose interessanti qui una stella marina e i granchi è l'ora di una nuotata l'acqua è perfetta una tartaruga un delfino o un altro delfino dammi un passaggio uno squalo salvatemi aiuto 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 che bella giornata per una nuotata e quello cos'è qualcuno sta chiedendo aiuto ti salvo io prendi questo ti aiuto io come stai sto bene grazie mi hai salvato la vita ah nessun problema stai attenta la prossima volta possono esserci squali qui attorno ma io non lo sapevo sono appena arrivata io sono qui da un po ormai posso mostrarti tutto oh sarebbe splendido comunque io sono barbie io sono Kevin piacere di conoscerti vuoi vedere altri video interessanti forse questo oppure questo che ne dici di questo o questo dai scegline uno sceglili velocemente prima che scompaiano no